Ciao, bentornato oggi sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1 con notizie come Nicolas Vaporidis allo stremo, l'esperienza all'Isola dei Famosi si fa sempre più difficile Il naufrago vuole abbandonare il gioco e tornare in Italia dopo il crollo fisico degli scorsi giorni Ecco cosa è successo in Honduras.Nicola Vaporidis.Va avanti l'Isola dei Famosi alla conduzione di Ilari Blasi e la finale è ancora lontana per i naufraghi che sono sempre più provati da quest'esperienza A fare da spalla in studio alla conduttrice due opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino Ad accompagnare invece i concorrenti in Honduras Alvin.Durante la puntata andata in onda venerdì 29 aprile, l'attore Nicolas Vaporidis ha raccontato la sua esperienza del gioco nel mentre si è anche commosso Molte le emozioni che man mano che i giorni passano si intensificano sempre di più anche a causa dello stress causato dalla fame, che porta a scontri tra i naufraghi Il reality di Canale 5 si intensifica sempre di più e le liti si fanno sentire, ma anche i malesseri E l'attore ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole Tante le settimane passate in Honduras e Vaporidis sta iniziando a cedere per le tante difficoltà, tanto da pensare di abbandonare il gioco e tornare in Italia Nicolas Vaporidis, crollo fisico potrebbe abbandonare.Ecco le parole di Nicolas Vaporidis in diretta dall'Honduras Sono molto provato dall'esperienza sull'isola, sia mentalmente che fisicamente A volte non riesco neppure a stare in piedi e per me è una sensazione completamente nuova Pensavo fosse più facile, mi mancano i miei cari, i miei affetti Punto ha poi continuato, non ho più le forze per fare molte cose, non ce la faccio proprio Vivo in continua prova praticamente, nulla è scontato, ma quest'esperienza mi ha fatto capire quanto sono fortunato nella vita Ho sempre dato priorità al lavoro, e ho tralasciato dei rapporti perché ero impegnato con il lavoro, ora sento molto la loro mancanza, soprattutto di una persona che è a Londra e mi manca davvero tanto Punto Nicolas Vaporidis stanco, vuole tornare in Italia.Nicolas si è trovato davanti un percorso che si immaginava molto più facile e non così duro L'attore è molto provato e molto stanco ed ha avuto un crollo fisico alcuni giorni fa Ora fortunatamente si è ripreso ma le sue parole hanno fatto capire quanto impegno sta mettendo in questa nuova esperienza, affrontando giorno per giorno le difficoltà dovute al reality Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video